musica 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 era testa non lo so ma era testa cost line cost line ma sai che figata se si riuscisse ad importare informazione del proprio cervello guarda chat io meno male che quando arriveremo nel futuro dove dei robot e cose impiantate io sarò già morto quindi non sarà un mio problema ma sarà un vostro problema voi avete presente chat i film degli umani che vengono robotizzati o comunque tu vieni rapito e la gente ti fa credere di essere un'altra persona diventi una spia noi diventeremo così ma io non ci sarò sarà un vostro problema neanche voi forse sarà il problema degli altri tutte ste cose impiantare chip perché ricordatevi chat l'umano è una merda tutti gli umani sono una merda ok e se una cosa la puoi fare per farti un rendiconto personale la fai la fai ok quindi se questo chip per puro caso ci possa essere la possibilità di farle venire impiantati in un cervello e farle così da tu comandare le sue azioni lo faranno sicuro e ve la metteranno nel culo ma io non ci sarò chat io sarò morto di vecchiaia io non ci sarò saranno cazzi degli altri ha 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 venite robotizzati voi io non ci sarò più morto prima ha 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 mi piace questo mondo dove io faccio quello che voglio ma con l'operazione il gioco funziona di merda il gioco funziona è proprio il gioco funziona il problema ma ve lo fate a quello grazie è stato uno scontro molto avvincente eh me ne so accorto lui è morto e noi siamo vivi è stato molto bello ma c'è buona vita tra un attimo non l'ho visto all'ultimo ma questo l'ho messo fuori tra un attimo bravi i clicker era nell'angolo non è che non è che scusami ma fammi controllare pure a me adesso è qui sul ping ascia ci vai piano ti mira arrampicati che ti aiuto io morto ah ma è sotto sotto ok è morto quello la eh tranquillo ma che sfiga uno invaso ok posso continuare a dronare senza solis che carino vai da sotto a pulpingarlo hai ragione fra hai ragione me lo pinghi aspetta eh no perchè devi muovere leggermente il drone eccolo pingato rosso vai 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 gira il drone se puoi pure giusto per averlo testo mamma mia che call che fa copra guardate il mio drone per favore te lo sto guardando io te lo sto guardando io te lo sto guardando io ok uno è dietro la bomba secondo me son call eh vasso 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 provo a plantare dietro bomba ti metto il drone qua ragà vai te lo guardo io dai il drone è nell'angolo allora uno è swapping verso la rotation son call uno è dietro ok arriva la rotation rotation va morto oh merda eh ne è devo andare a me ne sono un cogliere planta 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 no no aspetta aspetta non planta ora ok planta ok planta ok planta diciamo se arriva a bull eh 5 minuti no fa il giro fa il giro fa il giro è qua vasso 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 vaso sulla porta è entrato fuori uca ancora è entrato ora bomba verso rotation bomba ora esce sta per uscire è uscito c4 aia bravo 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 ma che cazzo è sta glamour ma putt'affa perchè perchè secondo me col fatto che dipende anche dal colore che c'è la glamour ma se lui c'è la blu non si vede un cazzo così esatto ah è impossibile che cazzo c'è 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 un 1% della gente c'è la blu contro sai perchè non l'ha visto e lo dico io perchè la clima era talmente indietro che dal suo angolo quando ha tirato c4 non l'ha vista e quando ha piccato non se ne accorto subito non era stato reattivo e non ha è vero è vero che l'ha presa in pieno vabbè ma stava pensando solo a piccare quindi neanche ci ha fatto caso comunque lì rei hai panicato ciao sono una c... e lo so vero no no ma di più ho sbagliato il movement non ho panicato volevo tornare indietro perchè c'ho 20 hp ovviamente la scelta era giusta solo che ho sbagliato il movement c'è sta... che mi hai raggiunto una è scala main è andato blu bar tra office gira tra office e blu bar ok però un attimo vip io vado da l'ho pari da che pari al corridoio lì non vedo un cazzo ce n'è uno corridoio è solis corridoio è roba nice c'è solis lo so dietro vip è rinforzato guarda se ti entri in vip l'ammazzo io raga sono vip l'acqua in vaso sono vip l'acqua non c'è nessuno no sei in corridoio ed è che ti entri in vip due a qua corridoio c'è solis corridoio eh lo so lo sappiamo eh mi serve una mano perchè se non entro acqua ma qua dove quale? che parte? corridoio sul ping ok ok ma il problema ragazzi è che ho aspetta ok c'è dentro uno è dentro là che già? sì sì è sul dove ci sono i box è morto bravo vai è morto è morto è morto Dopo vaso e uno scale vaso Scale di acqua Uno è sotto C'è 4 eh Uno scale blu, scale blu Venite al plant Si Vanto, vanto, vanto No, non lo so Lo so Audio? Era sotto? No, no, no Dall'altra parte Ah, no, credo, dall'altra parte Ok Sotto con Wardle non fare una minchia È bello che anche re adesso inizia a parlare di trade No, 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 io non per loro mai dite la merda Pare che stava parlando di trade un secondo di qua Aspetro, no, no Dai, esci, esci, mi ora, dai, un momento Una blu bar Mi dronate il Legion office 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 non c'è nessuno, è blu bar Blu bar Non ho guardato la security Non ho guardato la security Blu bar Non vedo la Legion C'è una Legion main qua Legion Te lo puoi fare, è pin 4 E' pin 4 Dicino uno security Dicino uno security Security, arrivo Mi sono flashato Che angolo? Che angolo? E' l'angolo Eh ragazzi, i soli Era là Sledge, Sledge vieni con me C'era uno da me, c'era uno da me ragazzi Quest'era è sul... Il drone è l'ho vero? Sledge, Sledge, bar è pulito Fate il sito in ultimo Morto uno in un pietro Vittato il Legion, mi serve una mano Pulito, pulito Sledge Oh, bar blu, bar blu Vai di prefer, vai di prefer Morto è uscito Morto è uscito C'è no, morto è uscito Guarda Guarda E' dietro la palma a destra Vabbè? Palma a destra di guarda Guardami i sui droni in cerca Il mio Doc cheitta Doc cheitta Yeah! E' bene Buon l'h, non è chiaro Morta Solis Morta Solis che ci stava... Era su rotation, Doc E' la zami era in sight Trampi in sight Fammi tornare Fammi tornare Fammi tornare Noo cazzo c'è il drone Ho sentito un film E' altre? C'è il mio to' a destra Siamo sinistra Non lo vedo perché Doc, Doc sul buco di... sul buco In fondo verso bagno Un HPA Stai andando su... Noo Eh ma... Dio Ho preso il nome a darlo a sinistra Epic... La zami E' dietro la zami Ero tutto a destra Non lo so Ma c'è la rotation sapete? A destra? No No Non lo sappiamo Non lo sappiamo Sdraiato Va bene 20 secondi eh Era a destra Ma dai Ma dai Non lo so Ma era a destra Era a destra questa Forse no Sì vorrebbe... Ma... Questa era a destra Tra l'altro Dalla sua visuale ma anche visuale Capito? C'era a destra a parese chat Il primo doveva morire con la terra E lui doveva morire pure Proprio round trollato Proprio dai server di Ubi Cioè per effetti Così ragazzi Chi ci fu... Chi si è fuori E' fuori A VF che dà rinforzare Ma la VF che dà rinforzare Per rinforzare il VF tutto e due Ah Maria con la valla Ragazzi avrei fatto troppo... troppo... Insight mi so C'è un drone su single Non c'è anche i muri per VIP C'è il risupping No no, dentro era Ce ne manca uno Avete rinforzato un muro in più Ma no, ma non va rinforzato Ah sì, il vitto va rinforzato doppio No Si Ma è perchè siete scarso Ma qua non bisogna rinforzare Chi cazzo ha rinforzato? Chi ha rinforzato? Quello nooo, quello non va rinforzato Nooo No, guarda che bella No, da sì, da destra L'altro Quello, anche quello Entrambi, entrambi Ma io non sto capendo per un cazzo, ragazzi Qua pusha quando Nash Attenti, scale blu Chi vuoi di scale blu? No, attenti Vabbè c'è Sound 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 Brecciano Ok, sopra, sopra Non vi chiedo chi accuso acqua Perché sennò bestemmio Nomad Juggles morti Sound ragazzi Stato, guarda Da me c'è Ash Dov'è c'è? Eh, vip Guitar Ma che cazzo state facendo? Ma che cazzo state facendo? Ma due cazzo mi devo mettere Dove vuoi? Lo metto qua Eh, lo so, Dobb Porta vip, assi Oh no, non c'è porta vip No, non c'è nessuno Allora, porta vip Eh, dietro alla box di vip Va No, sul tetto Una tetto Una vip Va Raga, 442 Non piccate È inipide Spicchiamo È utile Una è sempre dentro vip Sennò piccate è easy E l'altra è sempre sul tetto? Una tetto, sì sì Una vada Ah, è vero È morto quello vip Vai, è morto Ash, è morto Ash Tranquillo Ah, ok Vip Non lo vedevo vedere, non lo vedevo È vip sempre, ragazzo, da mezz'ora Ah, vip, 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 vip Davvero? Sì, è da mezz'ora che lo dico Sound? È sempre alla porta È uscito Pink, è rientrato Che mira di Marta No, ma qua c'è una trema Nice Non lo so, Mariano Che cazzo È un coglione Non è che cazzo Il coglione Il coglione Ti senti? In coglione? Lui Cosa cazzo ho appena visto? È un coglione Coglione Che cazzo ti senti? È un coglione Vedi? È caldo Vedi? Sei un carincolo È un coglione Ho te Uuuu Guardalo Sono io, sono io questo Vabbè, minchia, ma che minchia di problemi ci avete, cristo Dio Se volete conosco un dottore Ma uno? Ma tiene tre No beh, io parlavo di medico, cioè non di psichiatra Ah ok, era junk C'è anche quello E già lì sono due aperte Che cobra, kawai Mio giocatore del mondo Oh, per esempio L'ho comprata o l'altro muro? Io vado sopra Ma chi ti vuole sopra? Non farlo, li ho portato tutti e tre io Pirla, hai capito? Pirla Non lei è pirla, lui è coglione Ho io dieci punti Chia, tu li finiamo nell'occhio Sound Guardi troppo Porta service Dove? Fuori, fuori Tasto termi, signora Zane Cosa? Della porta principale Noi siamo sempre sopra Allora siamo prima Eh, sono da soli sempre Copro cucina Oh, titolone, titolone Doc, doc, titolone Porta di sinistra di service Quanti sono? Quanti sono? Quanti sono? Sound Quanti sono? Due No, vado a picchiare, ho capito Porto, calmati Ma hai già capito Ma se ti calmavi Guarda qua Guarda qua Guarda qua guarda qua Vabbè ciao youtube Dai, la prima partita che hai registrato Allora Zerk ti giuro sei di un ansioso Cristo Gli dico stai calmo che ci sono io Era messo dietro No zio era messo dietro il letto che stava piangendo Io ti giuro Come cazzo ha fatto Entrare allo fame se tu coprivi Io lo coprivo C'era pure la Claymore stai calmo Ray ti ricordo il Sei minuti prima della stream Dove sta cazzo sei finito Hai capito? No micchia 5 minuti prima ma che vuoi Mi sta in grado di Dio Non mi ha spuntato Lui ha avviato stream anche direttamente alle 15 Alle 15 e 5 Lasciali in pace cavolo Pure alle 15 e 10 ogni tanto 15 e 20 15 e 30 15 e 30 Sì infatti